parliamo un po di guanti io ho sempre due paia di guanti uno più pesante e uno più leggero sia quando vado a fare alpinismo classico che quando vado a fare cascate di ghiaccio o misto con le piccozze perché perché questi qua devono essere da azione sono leggeri sono di pelle in realtà io non ci spendo neanche tanti soldi perché si rovinano abbastanza velocemente anche sono di pelle e un po robusti durano poco usandoli sulla roccia usandoli con le piccozze e soprattutto anche ad avvitare le viti si consumano tantissimo devono essere presi a misura ricordate che la pelle si allarga tantissimo e veramente spendeteci poco perché devono essere comodi da indossare e soprattutto prendete di una taglia piccola dovete fare fatica quasi a entrarci appena li prendete vedrete che si allargeranno